Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro gioco Ci ritroviamo su Dissidia Final Fantasy o per omnia versione giapponese Perché oggi appunto, come ben saprete, è uscito X-Death all'interno del gioco Con il suo relativo evento, ovviamente, con la possibilità di poter ottenere una sua 15 CP e due armature 35 CP Ovviamente tutto ciò che sta attorno al suo evento, quindi le varie stage con la multiplayer, difficoltà X, Cosmos e Chaos Che io ho già concluso, a parte la Chaos che devo registrare a breve per poi ovviamente caricarvela sul canale Però oggi che cosa facciamo? Oggi è un video particolare perché voglio pullare, voglio tentare di pullare i ticket su X-Death È un personaggio che in realtà è stato abbastanza criticato Ha comunque diviso al solito la community per quanto riguarda appunto il suo meccanismo E per quanto riguarda anche la sua funzione all'interno del gioco Molte hanno detto che può essere interessante, che può essere buono per le sue varie abilità Alcuni lo definiscono un personaggio veramente da poter skippare a mani basse E quindi al solito c'è questo dualismo che caratterizza la versione giapponese Io personalmente lo trovo abbastanza interessante Non lo trovo rottissimo Nel senso come altri personaggi che hanno dimostrato in precedenza di essere veramente forti Con delle meccaniche molto molto complesse alle loro spalle Però al tempo stesso secondo me X-Death può essere un investimento Può essere un investimento perché comunque è un buon debuffer Dà poison damage in base appunto al suo attacco Quindi abbastanza buona come cosa Non può killare col poison e non può breccare con le sue skill Però ha la funzionalità appunto di ridurre il brave a zero Ed ha anche la funzionalità di poter ridurre comunque in fin di vita anche i vari nemici Quindi io direi che non è una cosa da sottovalutare così completamente Andiamo a vedere un attimo i banner così giusto per farveli vedere Abbiamo anche il banner delle gemme scontate Che però non vi faccio vedere Questo è per l'appunto l'evento di X-Death Il banner con l'evento di X-Death Con la possibilità di prendere la 15 CP Due armature 35 CP E i boss sullo sfondo che sono appunto Quelle due farfalle che si vedono in alto a sinistra Moveset particolare delle farfalle Che ricordano tantissimo i vecchi angeli Se vi ricordate delle vecchie Chaos, delle vecchie Cosmos Hanno praticamente lo stesso moveset Tranne una meccanica in più particolare Che è quella del counter Che si attiva nel momento in cui riescono a breccare il vostro team Ed è appunto per questo che Wall sarà un sinergico di questo evento E avrà comunque un ruolo fondamentale per chi vuole utilizzarlo Vi faccio vedere anche il banner dove si possono pullare le armi Con X-Death abbiamo sperato fino alla fine che potesse uscire l'Enna In realtà è uscito Gilgamesh che è stato migliorato e potenziato con la X Plus Tant'è che adesso guadagna anche lui la ricarica della skill Mad Dance Con l'utilizzo dell'Ex Che è davvero davvero ottimo per lui Sono molto soddisfatto del rework che ha subito Gilgamesh con questa X Plus Perché guadagna una grandissima longevità Gilgamesh di per sé ha una X che si ricarica anche abbastanza in fretta Da quello che ricordo Quindi il fatto di poter ricaricare una Mad Dance ogni qualvolta si utilizzi per la X Dà un grandissimo potenziamento e fa fare un grandissimo salto in avanti Per quanto riguarda Gilgamesh stesso Quindi sono molto 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 contento e soddisfatto del suo rework Andiamo subito verso il banner Non ho tantissime risorse Ho le gemme che ovviamente tengo da parte Quasi 45k Non sono male Per l'ipotetico banner di fine mese Anche per vedere effettivamente chi esce con la X Perché i nomi comunque ormai sono prestabiliti Penso che ormai i nomi li possiamo ormai contare Visto che ne mancano veramente pochi Esclusi Lost Chapter e quegli eventi appunto dove sono accoppiati Rimangono spaiati soltanto pochi personaggi Quindi già possiamo immaginare chi possa ricevere addirittura la sua X Plus Però per il momento aspettiamo il report di agosto Dato che ormai siamo a fine mese E probabilmente a breve uscirà appunto il report di fine mese E godiamoci invece i pool dei ticket che voglio fare su questa batch Possiedo 50 ticket Più quelli che dovrei prendere effettivamente dalle multiplayer E dalla Chaos Senza considerare ovviamente le summon board che dovrei farmare con X Death Ma questo è un caso particolare Per cui direi che questi ticket posso anche buttarli tutti Quindi saranno 50 ticket che ci facciamo insieme Nel vedere che cosa riusciamo a trovare Ma soprattutto nel vedere se il banner effettivamente mi sorride o no Perché un banner comunque ti sorride o ti fa capire di essere aperto alle tue possibilità Già anche dai primi ticket Che in questo momento non stanno andando benissimo Andiamo avanti Ancora siamo a 40 Adesso 46 Non ho Sinceramente non so cosa aspettarmi da questo banner Perché ho visto un connecting Ah Una 15 CP di Lise Di chi è? Sì Che io comunque ce l'ho completa Quindi una power stone che sinceramente schifo non mi fa Mi va assolutamente bene Avevo visto il connecting ed è per questo che ho lasciato Aprire la boccia Tutte in una volta Cioè ho lasciato aprire la boccia piano piano E non ho schippato il contenuto Il fatto che ultimamente Non stia pullando Forse ha fatto bloccare Quello che è il mio fluido fortunato Chiamiamolo così Proprio perché Cioè i ticket che sto buttando Tra virgolette in questo periodo Sono solo ed esclusivamente Orb azzurre E non mi hanno dato niente Veramente non mi hanno dato niente Di buono Ed è per questo che Un pochino i ticket Li sto Tra virgolette Trascurando E li sto anche buttando un pochino Proprio perché non mi stanno più dando Comunque le soddisfazioni che mi hanno dato precedentemente So benissimo che questo è un gioco dove la fortuna fa da principe Dove anche È una sorta di ciclo Quello che si vede all'interno del gioco Ho visto Ok niente Non ho visto niente Quindi so anche che è benissimo un ciclo Presente all'interno del gioco Dove Una volta Hai qualcosa Il gioco ti dà Il gioco ti toglie Quindi è giusto che sia anche così Però ultimamente Ad esempio per Galuf Se non fosse stato per le gemme Per il Pity Addirittura che ho dovuto fare sul suo banner Non sarei riuscito a portarmela a casa E Galuf comunque è un ottimo Veramente un ottimo Investimento per il mio profilo Quindi veramente se non avete pullato Su quella batch Vi consiglio di farlo Fino a quando ne avrete la possibilità Perché Galuf Insieme a Leo Penso siano due personaggi Veramente Veramente buoni Galuf con il counter Leo con il delay Danno Danno veramente una grossa mano Io penso che siano veramente due personaggi Costruiti molto Molto bene Per cui Per cui niente Il mio consiglio è quello Poi se ovviamente li avete E decidete anche di pullare su altri banner Potete farlo benissimo Io ovviamente ci sto provando Anche per portare un video E per portare un contenuto Un'orba argentata Dopo veramente tanto tempo Che mi da Che cos'è un'altra 15 Un'altra 15 di ex death Che già sono due Che vabbè potrebbero essere buone Ma sinceramente Mi sarei aspettato qualcosa di più Tecnicamente però Però va bene Lasciamo Lasciamo che I biglietti Rivelino Il mio futuro Veramente tutte orb azzurre È una cosa che Che è veramente assurda Cioè neanche una bella orb argentata C'è una sola Ne ho avuto orb argentata Su quasi Su quasi 50 ticket Che è una media Veramente Veramente Bassa È una media Molto Molto Bassa Quindi sono consapevole Del mio momento Un po' Calante No? Dove appunto Come vi stavo dicendo È una sorta di ciclo Quando li lascio andare È perché vedo Quel connecting In basso a destra Che mi fa ben sperare Però poi ovviamente Il risultato È questo Quindi Dovrei anche Non sperare tantissimo Sono molto curioso Anche di vedere Chi ci sarà a fine mese Anche perché ci saranno Dei Lost Chapter Interessanti ad agosto Dove Probabilmente Dovrei Effettivamente Pullare Dove ci sono personaggi Che sono molto comodi Sono molto utili Tra i quali Porom Mi interessa Mi interessa Particolarmente Poi altri Effettivamente Non Per il momento Non so Però Porom È uno tra quelli Ultimo ticket Che ovviamente Ho per il momento Ok Abbiamo finito È andata Piuttosto maluccio Se devo essere onesto Perché Ho trovato soltanto Una 15 E una 15 Divise Che ho già Quindi Tecnicamente Anche se Ex death È un personaggio Che ripeto A me piace parecchio Mi sarebbe piaciuto Magari Avere la sua ex Anche messa da parte Per poi maxarla Successivamente Non subito Però Per il momento Va bene così Adesso Tenterò di fare La caos Registrerò la caos Andrò avanti Con le multiplayer Cercherò di prendere Le ricompense Delle multiplayer Non so Se farò un altro Videopull Perché non credo Di raccimolare Tutti questi ticket Però Vediamo Magari faccio Una parte seconda Giusto per far vedere Come va La situazione E detto questo Io per il momento Vi ringrazio Per il momento È tutto Io spero Che al solito Il video vi sia piaciuto Fatemi sapere voi Se avete pullato Cosa avete trovato Cosa non avete trovato Se avete pullato E noi al solito Ci vediamo Alla prossima